rosanna fratello un nome che risuona nel cuore dell'italia una vera icona la sua carriera attraversa decenni canto recitazione televisione rosanna ha incantato il pubblico con il suo talento e il suo fascino è una figura amata nella cultura italiana le sue canzoni evocano nostalgia ed emozione i suoi film catturano l'essenza della vita italiana la presenza di rosanna è calda e accattivante oggi rosanna gode di una vita più tranquilla risiede in una splendida casa vicino al lago di como questa regione pittoresca occupa un posto speciale nel suo cuore è un luogo di pace e tranquillità la storia di rosanna è una storia di talento perseveranza e fascino duraturo rimane un'ispirazione per generazioni di italiani la sua eredità continua a brillare il lago di como è rinomato per la sua bellezza il lago brilla le montagne si ergono maestose le ville punteggiano la costa è un luogo dai paesaggi mozzafiato rosanna fratello ha trovato qui il suo santuario la sua casa è un'oasi di pace è immersa nel verde lussureggiante i panorami sono semplicemente sbalorditivi la casa è elegante ma confortevole riflette la calda personalità di rosanna la luce del sole filtra dalle finestre l'aria è piena del profumo dei fiori per rosanna il lago di como è più di una semplice casa è un luogo dove ricaricarsi per entrare in contatto con la natura per trovare ispirazione è il suo paradiso personale il legame di rosanna con como è profondo la sua famiglia un tempo possedeva una pasticceria in città era un'amata istituzione locale il negozio era pieno dell'aroma di dolci appena sfornati la gente del posto si riuniva lì si godevano caffè e dolci era un luogo di incontro e di comunità rosanna ricorda con affetto quei giorni il negozio occupa un posto speciale nel suo cuore rappresenta un tempo di famiglia e tradizione anche se il negozio non c'è più il suo ricordo vive è un promemoria delle radici di rosanna e l'importanza della famiglia e della comunità la vita sul lago di como è idilliaca il ritmo è più lento l'atmosfera è rilassata è un mondo lontano dal trambusto della vita cittadina rosanna apprezza questa tranquillità le piace trascorrere del tempo nel suo giardino fare passeggiate lungo il lago assaporare i pasti con i propri cari le sue giornate sono piene di piaceri semplici trova gioia nei momenti quotidiani la bellezza della natura il calore del contatto umano la vita di rosanna sul lago di como è una testimonianza del potere della semplicità è un promemoria che la vera felicità può essere trovata nelle piccole cose quinta sezione il fascino di como storia bellezza e tradizione il lago di como incanta i visitatori da secoli la sua bellezza è leggendaria il lago brilla come un gioiello le montagne fanno da guardia la città di como è intrisa di storia le sue strade acciottolate sussurrano storie del passato antiche mura parlano di epoche passate ville storiche sono a testimonianza di un ricco patrimonio culturale como è rinomata anche per la sua produzione di seta la tradizione risale a secoli fa la seta è pregiata è apprezzata in tutto il mondo per la sua qualità e maestria artigianale i visitatori di como sono affascinati dal suo fascino la bellezza del lago la storia della città il calore della gente è un luogo che ti rimane dentro a lungo dopo che te ne sei andato quinta sezione il fascino di como storia bellezza e tradizione il lago di como incanta i visitatori da secoli la sua bellezza è leggendaria il lago brilla come un gioiello le montagne fanno da guardia la città di como è intrisa di storia le sue strade acciottolate sussurrano storie del passato antiche mura parlano di epoche passate ville storiche sono a testimonianza di un ricco patrimonio culturale como è rinomata anche per la sua produzione di seta la tradizione risale a secoli fa la seta è pregiata è apprezzata in tutto il mondo per la sua qualità e maestria artigianale i visitatori di como sono affascinati dal suo fascino la bellezza del lago la storia della città il calore della gente è un luogo che ti rimane dentro a lungo dopo che te ne sei andato sesta sezione è nata una stella l'ascesa alla fama di rosanna il viaggio di rosanna fratello verso la celebrità è iniziato in giovane età possedeva un talento naturale per il canto la sua voce era potente ed emotiva raggiunse la fama negli anni 60 era un periodo di grandi cambiamenti culturali in italia la musica di rosanna catturava lo spirito dell'epoca le sue canzoni erano piene di passione ed emozioni hanno riscosso successo presso il pubblico di tutta italia rosanna è diventata un nome familiare il suo successo non si è limitato alla musica rosanna si è cimentata anche nella recitazione ha recitato in diversi film di successo le sue interpretazioni sono state elogiate per la loro autenticità e il loro fascino settima sezione melodie e ricordi il viaggio musicale di rosanna la musica di rosanna fratello è profondamente radicata nella cultura italiana le sue canzoni evocano un senso di nostalgia trasportano gli ascoltatori indietro nel tempo la sua canzone più famosa sarà perché ti amo è un classico senza tempo è una canzone sull'amore e sulla nostalgia continua ad essere suonata e apprezzata ancora oggi la musica di rosanna ha un fascino universale trascende le generazioni le sue canzoni continuano a toccare il cuore di ascoltatori giovani e meno giovani la sua voce è più che mai accattivante è piena di emozione e profondità la musica di rosanna è una testimonianza del suo talento e della sua arte duraturi ottava sezione un nuovo palcoscenico rosanna sotto i riflettori dei reality negli ultimi anni rosanna fratello ha vissuto beh una rinascita di popolarità la sua apparizione nel reality show grande fratello l'ha fatta conoscere a una nuova generazione lo spettacolo ha offerto uno sguardo sulla vita personale di rosanna i telespettatori sono rimasti affascinati dal suo calore dal suo umorismo e dalla sua personalità con i piedi per terra la sua partecipazione allo spettacolo ha abbattuto le barriere ha dimostrato che anche i personaggi iconici sono umani ha reso rosanna più vicina a un pubblico più giovane il periodo di rosanna al grande fratello è stata una testimonianza del suo fascino duraturo è entrata in contatto con spettatori di tutte le età la sua autenticità ha brillato nona sezione fascino senza tempo la popolarità duratura di rosanna la popolarità di rosanna fratello è una testimonianza del suo talento e del suo fascino duraturi ha affascinato il pubblico per decenni la sua recente rinascita di popolarità dimostra il suo fascino senza tempo il calore l'autenticità e il talento di rosanna trascendono le generazioni rimane una figura amata nella cultura italiana decima sezione la famiglia prima di tutto la pietra angolare della vita di rosanna nel corso della sua illustre carriera rosanna fratello ha sempre dato la priorità alla famiglia i suoi cari sono la sua roccia le forniscono un sostegno e un amore incrollabili rosanna è sposata con il fotografo pino mollica la loro storia d'amore è fatta di impegno duraturo e passioni condivise sono una vera coppia potente insieme hanno una figlia guendalina è la luce dei loro occhi rosanna ama il tempo che trascorre con la sua famiglia sono la sua gioia più grande l'impegno di rosanna nei confronti della famiglia è un'ispirazione dimostra che il successo è ancora più dolce se condiviso con i propri cari la famiglia è la vera misura della felicità undicesima sezione sogni e aspirazioni uno sguardo al futuro rosanna fratello si sarà anche allontanata dalle scene ma la sua passione per la recitazione arde ancora a sogni e aspirazioni per il futuro uno dei suoi più grandi desideri è quello di tornare al festival di sanremo questo evento iconico occupa un posto speciale nel suo cuore è lì che ha lasciato il segno nella scena musicale italiana rosanna crede che la musica abbia il potere di unire e ispirare vuole continuare a condividere il suo dono con il mondo per toccare i cuori e creare ricordi duraturi i sogni di rosanna fratello sono una testimonianza del suo spirito e della sua passione duraturi ci dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire le nostre passioni e realizzare i nostri sogni dodicesima sezione un'eredità di canto e di spirito l'impatto duraturo di rosanna fratello la storia di rosanna fratello è una storia di talento resilienza e fascino duraturo è un'icona della musica e del cinema italiano i suoi contributi alla cultura italiana sono inestimabili le sue canzoni evocano ricordi e suscitano emozioni i suoi film catturano l'essenza della cultura italiana è ammirata per il suo calore e autenticità è un modello per generazioni di italiani l'impatto di rosanna fratello è innegabile è un vero tesoro nazionale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti